Gli inibitori delle cicline stanno rivoluzionando la terapia del tumore metastatico, positivo agli estrogeni e R2 negativo. Questa classe finora comprende tre molecole, una delle quali è già disponibile nel nostro paese e le altre due di prossima introduzione in commercio. Noi ci facciamo raccontare il senso di questi farmaci, la loro utilità, dover esperto dal dottor Saverio Cinieri che abbiamo incontrato qui a Pescara in occasione della ventesima edizione del congresso del GOIME che si è svolto nella splendida cornice del conservatorio Luisa D'Annunzio. Dottor Cinieri, lei è appena tornato dall'Asco di Chicago, le novità sono state tantissime, in particolare per questa classe di farmaci. Ecco, ci spiegava che le novità sono due, di che cosa si tratta essenzialmente? Beh, la novità riguarda la classe, fondamentalmente questi farmaci sono inibitori delle cicline CDK4 e CDK6, così per inciso ricordo che il primo Nobel per la medicina è stato dato ai tre scopritori di questa classe di molecole non tantissimi anni fa, 2001, il che vuol dire che in pochissimi anni si è arrivato dalla scoperta della classe delle cicline all'inibizione delle stesse e quindi alla cura, cioè alla terapia per il cancro. Si tratta di, ancora una volta, eliminare un presupposto che era nella testa di oncologi medici. Quando hai di fronte una donna con cancro di mammella, endocrino responsivo, cioè che recettori ormonali espressi, poiché è metastatica deve fare la chemioterapia. Non è più vero, non era più vero secondo me neanche con altre classi più vecchie di farmaci, non lo è più vero ancora adesso, quando associando ai vecchi inibitoromatasi e alcuni serm di ultima generazione, quindi molecole sempre che vanno a bloccare i recettori ormonali, questi farmaci, che per inciso sono tre al momento in sperimentazione attiva e uno di essi in commercio, e li dico proprio in ordine di comparsa sulle nostre farmacie, che sono il palbociclib, il ribociclib e l'abemaciclib, associando, dicevo, questi farmaci noi abbiamo un'attività contro il cancro che è sicuramente simile a quella della chemioterapia. Tutti i sette studi pubblicati finora, compresi gli ultimi due mostri all'asco, hanno lo stesso tipo di curve, le curve divergono nello stesso identico modo, quindi abbiamo un effetto classe, e sugli effetti classe è difficile dire no, non è vero, non è così, forse la chemioterapia è meglio. Non c'è bisogno di studi di confronto, perché quando c'è un effetto di classe, e questo ce l'ha insegnato la storia della medicina, noi abbiamo un vantaggio sicuro. Le nostre pazienti possono fare, anche se metastatica, una chemioterapia incompressa, che deve essere gestita dall'oncologo medico con attenzione, perché non è scevra ad effetti collaterali, per esempio la diminuzione dei cobuli bianchi è un dato comune di due delle molecole, e la diarrea è il dato comune della terza molecola. È importante questo dato, è importante perché apre una prospettiva di qualità della vita delle nostre donne enorme, è importante perché l'intervallo libero da professione, cioè la necessità di cambiare trattamento, e passare magari a una chemioterapia è superiore a circa i 20 mesi, quindi sono quasi due anni in cui le donne fanno terapia di questo tipo prima di dover cambiare farmaco, e poi è importante anche per l'evoluzione futura. Si stanno facendo gli studi in adiuvante, cioè gli studi in prevenzione primaria, in cui le donne operate, oltre a fare quello che è necessario per la malattia, possono assumere, e gli studi appunto sono randomizzati e in corso, una delle tre molecole incompresse per un periodo che uscirà nei vari studi intorno ai due anni. Veniamo alle novità di Chicago. Le novità di Chicago sono fondamentalmente due studi, che sono il Monalisa 3, il Monalisa 3 fa parte dello sviluppo del farmaco Ribocchi, tutti gli studi di Ribocchi che si chiamano Monalisa. A San Antonio avevamo visto i dati di Monalisa 7, per la prima volta anche in premenopausa, quindi nelle donne che ancora hanno attività avarica, insieme all'LH e RH analogo, questa terapia funziona e quindi ci va a colmare un gap, perché fino adesso tutte le pazienti in premenopausa non venivano trattate con questa classe di farmaci, perché non c'era informazione sufficiente. Dicevo, il Monalisa 3 ha dimostrato come in prima linea l'uso di Ribocchi più il Faslo, adesso con il fulvestante del Sivoglia, dà un vantaggio in termini di PFS e di DFS, con le curve che, come dicevo prima, sono perfettamente aperte come al solito. Ecco, e la seconda novità invece qual è stata? La seconda novità è stata quella del Neomonarch, il farmaco di cui parliamo è l'Abemacicrib, tutti gli studi della classe Abemacicrib si chiamano Monarch. Il Neomonarch ci ha consentito di dare in neoadjuvante questa terapia, quindi prima dell'intervento chirurgico, permettendo una buonissima risposta ai trattamenti. Questo dato del Neomonarch è sicuramente molto interfacciato con quello dell'ACR, del congresso della ricerca sul cancro americano, che si è svolto sempre a Chicago ad aprire, qualche settimana prima dell'ASCO, in cui sono stati mostrati i dati di Monarch 3 con l'update, che dà un vantaggio enorme anche lì di tempo alla progressione. Ripeto, la cosa eccitante per un oncologo medico è che gestendo queste pazienti con delle compresse, noi abbiamo per tutte e tre le casse di farmaci lo stesso tipo di vantaggio. Non c'è uno studio che diverga e questo è sicuramente un dato importante. Grazie a tutti.